Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Sono Gameslash E in questo video tutto nostro Faremo le informazioni Sulla partita Juventus-Mila Cioè Mila-Juventus Che si terrà questa sera Alle 20.45 Quindi meno un quarto Ehm Iniziamo col dire un po' Di informazioni Su questa partita Sulla formazione Che terrà Queste due squadre Oggi Ok ragazzi il link della diretta della partita La potete trovare in descrizione E vi dico subito la formazione del Milan Che Cioè vi dico la formazione che sarà Abbiati di Sciglio, Bonera, Rami Emanuelson, Montolivo, De Jong Tarab, Depoli, Satecazzini Non è sicura Questa formazione infatti È una provisoria Ok invece a disposizione Nelle sostituzioni ci sono Amelia, Gabriel, Maxess, Zapata, Abate Giaccardo, Costant, De Sieno, Onda, Saponara, Robicini e Balotelli Ora passiamo alla formazione della Juventus Che sarà con il numero 1 Che sarà con il numero 1 Buffon Bazzari, Borucic, Chiedini, McSainer, Porto, Spiro, Marchisio, Peluso, Tevez e Lorente Invece a disposizione ci saranno Storari, Robigno, Robigno, Casares, Ogbona, Isla, Padoin, Giovin, Cosvaldo e Cogliarella Come allenatore ci si racconta E la formazione della Juventus sarà il 3-5-2 Come sempre Nelle formazioni per il Milan Appare difficile il recupero di Balotelli Pazzini È pronto a giocare titolare Onde andare in banchina Per lasciare spazio A Poli, Tarab, Spakà Di trova prima punta Parlando della classifica Al primo posto c'è la Juventus Come capolista Invece il Milan è al nono posto Per quanto riguarda i pronostici di Milano-Juventus La gara come detto Sarà più equilibrata Di quanto riguarda il divario in classifica E quindi è bene non sbilanciarsi troppo Sua vittoria di uno delle due squadre Meglio puntare Per le vostre scommesse Sul segno goal O sul segno over 2,5 Visto che le emozioni Non dovrebbero mancare Infatti Perché come sappiamo C'è una grande rivalità Tra queste due squadre Milano-Juventus Come già detto Giocherà alle 20,45 Al Giuseppe Meazza Quindi al San Siro E l'albitro Sarà Marco Guida Ok ragazzi Queste qui sono le informazioni Di quest'ora Per questa partita E vi terremo informati Nei commenti Se Degli aggiornamenti Per oggi è tutto Ci vediamo alla prossima Da Game Slash E Game Run Bella